Buongiorno carissimi Buongiorno carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle all'ascolto, benvenuti ancora qui su Ecclesia TV, oggi domenica 20 febbraio e vogliamo essere riconoscenti e grati al Signore per come sin qui Egli ci ha sostenuto. Una missione importante è il titolo della meditazione di stamattina tratta dal tesoro del Vangelo e le andiamo a leggere nel Vangelo di Marco al capitolo 1 al versetto 38. Ed Egli disse loro, andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché Io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. Il Signore fece una dichiarazione importante riguardo allo scopo per il quale era venuto dal mondo. Gesù afferma di essere sceso sulla terra per essere un predicatore e un insegnante. Egli venne per essere il profeta più grande di Mosè da tempo annunciato. Egli lasciò la gloria che aveva dall'eternità per compiere l'opera di evangelista. Si abbassò per mostrare all'uomo la via della pace, per proclamare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi, la possibilità di recuperare la vista. La sua opera fu quella di chi aveva il cuore rotto. La sua opera fu quella di diffondere stancabilmente pace a coloro che erano nella sofferenza, luce a coloro che erano nelle tenebre e perdono al più grande dei peccatori. Gesù attribuisce al ministerio della predicazione un onore particolare. Si tratta di un incarico che l'Eterno Figlio di Dio assunse personalmente. Egli avrebbe potuto svolgere la propria missione osservando dei cerimoniali al pari di Aronne. Avrebbe potuto regnare e governare come un re, non diversamente da Davide. Eppure, fino al momento della sua morte, come sacrificio per i peccati, il compito che si assunse instancabilmente fu quello di predicare la parola di Dio. Non facciamoci influenzare da coloro che sottovalutano l'ufficio del predicatore. Diamo a ogni parte del culto comunitario il posto che le spetta, ma guardiamoci dal porre qualcosa al di sopra della predicazione. Mediante l'annuncio della parola di Dio, la Chiesa di Cristo fu raccolta e fu fondata. Attraverso la predicazione, essa è stata sempre mantenuta prospera. Mediante la proclamazione della verità, i peccatori sono risvegliati. Le anime che cercano Dio sono condotte a Lui e i santi sono edificati. Quanti deridono e disprezzano la predicazione. Non fanno altro che ridicolizzare l'opera che ha messo sotto sopra il mondo. L'attività che Cristo stesso ha svolto. Il Re del Re, il Signore dei Signori, per tre lunghi anni fu più di ogni altra cosa un potente predicatore. E che la sua predicazione possa colpire ogni giorno il nostro cuore. Che Lui ti benedica. Amen. Grazie a tutti.